AWC, Portuguese Minute Repeater, eleganza e complessità in un capolavoro sonoro. Nel 1993, in occasione di 125 anni di AWC, la casa orologera svizzera lanciò una nuova versione dell'AWC Portuguese in edizione limitata, che riprendeva il design originale ma aggiungeva alcune complicazioni, tra cui la ripetizione minuti. La cassa è disponibile in oro rosa o platino, con un diametro di 44 mm. Il quadrante è di colore argento o blu, con piccoli secondi a ore 6 o 9 e adornato da minuteria Schema de Fer. Il cinturino è in pelle di allegatore. La complicazione della ripetizione dei minuti consente all'orologio di segnalare le ore, i quarti d'ora e i minuti attraverso un elegante meccanismo, attivata da una robusta slitta. Questa raffinata sonorità trasforma il passare del tempo in un'armonia di suoni cristallini, toni profondi per indicare le ore, un doppio battito su entrambi i gong per segnalare i quarti d'ora, e colpi sul gong più acuto per indicare i minuti. L'AWC Portuguese Minute Repeater Skeleton Ref 5241 è uno dei pochissimi prodotti in questa versione trasparente. La cassa è in oro bianco, con un diametro di 43 mm e uno spessore di 12 mm. Il vetro zaffiro antiriflesso protegge il quadrante da graffi e riflessi. Il quadrante oltre alla già citata scheletratura, presenta lancette in acciaio azzurrato. Il cinturino è in pelle di coccodrillo blu, con una chiusura ad ardiglione in oro bianco. Il fondello è trasparente e permette di ammirare il movimento meccanico a carica manuale. Per attivare la ripetizione minuti, basta premere la slitta posta a ore 10 sulla cassa. L'AWC Portuguese Minute Repeater è un orologio in edizione limitata a 50 esemplari, che testimonia la maestria e l'innovazione della casa orologera svizzera. È un orologio da collezione, che esprime eleganza e raffinatezza.